namaskaram sad guru potresti per favore elaborare sul numero 33 so che è un numero molto significativo nella vita di una persona il mese prossimo il prossimo porna mi compirò 33 anni e so che c'è una sorta di sadhana speciale che viene data al centro per le persone che hanno meno di 33 anni quindi volevo sapere se supero questo punto qual è il significato nel mio percorso spirituale abbiamo della sadhana anche per le persone anziane fa piacere sentirlo grazie nella cultura yogica i primi otto anni o in realtà otto anni e mezzo sono considerati infanzia quindi questi non vengono contati anche se balavasta conta fino a 12 sono gli otto anni e mezzo in cui hai otto anni e mezzo solo i tuoi genitori pensavano che fossi un bambino segretamente eri molte cose sì gli adulti pensano che tu sia un bambino ma tu sai di non esserlo perché la tua infanzia in molti modi finisce a otto anni e mezzo quindi se prendi due cicli solari che fanno 24 anni o poco meno di ciò e ci aggiungi otto anni e mezzo diventerà 32 e tre quarti o qualcosa del genere 32 anni e sette mesi o qualcosa del genere i calcoli esatti li possiamo fare ma sono quasi 33 anni quindi quando questi due cicli finiscono più balavasta lasciandolo da parte quando finisce è una possibilità questo è il momento in cui la tua vita potrebbe assumere un diverso livello di propulsione se ti sei preparato bene con l'istruzione o qualche competenza o yoga o le dimensioni interiori della tua vita se ti sei preparato su una qualsiasi di queste cose quello è il momento in cui può essere in propulsione oppure iniziare a schiantarsi sai nelle società occidentali si parla di crisi di mezza età di solito inizia intorno ai 33 34 anni d'un tratto le persone non sanno che fare con se stesse la vita diventa priva di significato o coloro che hanno successo trovano trazione ed un tratto esplodono i livelli diversi di successo o benessere tutto questo può accadere perché all'interno del sistema ha completato un certo ciclo può decollare o schiantarsi quindi la sadhana prima dei 33 anni è di un tipo che è più di natura preparatoria così che quando quel momento arriva saranno in grado di trasformarlo in un momento positivo nella propria vita perché quanto positivo diventa all'età di 32 33 anni determinerà ampiamente la traiettoria della propria vita e l'impatto nell'intera vita tutta la tua vita sarà in gran parte la traiettoria di ciò che sarà deciso in quel momento se la vita non decolla davvero a quel allora potresti fare bene ma non volerai mai sarai sai un compito in salita non che tu non possa mai volare è una cosa sbagliata da dire ma difficile hai bisogno di più carburante per volare molto più carburante per volare ma se hai portato la tua vita le tue strutture fisiologiche le tue strutture energetiche la tua geometria interna se le hai portati ad un certo livello di maturità quando arrivi ai 33 anni allora la vita decolla molto più senza sforzo altrimenti sarà necessario uno sforzo molto maggiore ecco perché istituiamo una certa sadhana al di sotto dei 33 anni affinché si preparino organizzino la propria geometria interna organizzino le proprie energie conservino loro stessi in modo tale che quando la vita vuole scattare in avanti hai il carburante necessario per farlo vedi vuoi accelerare ora e partire davvero alla grande ma il tuo serbatoio è vuoto ci saranno dei problemi non importa quante possibilità ci siano il tuo serbatoio è vuoto ora questo non volerà tutto il resto potrebbe essere fantastico potreste avere istruzione conoscenza ma comunque non volerai facilmente a causa di questo se manchi questi 33 anni quelli di voi che sembrano sono depressi sadguru ho 35 anni cosa fare se sei un uomo 42 è un altro momento in cui c'è un altro incremento non allo stesso livello dei 33 ma decisamente un incremento sostanziale in cui si può di nuovo fare uno scatto in avanti se sei una donna potrebbero essere 46 per te ma se non gestisci bene la tua biologia 46 potrebbero diventare più problemi che possibilità ma ci sono molte possibilità quando una donna raggiunge i 46 anni può superare le limitazioni di qualunque cosa con cui la natura femminile la tratteneva con certi aspetti della vita tutto ciò lo può superare alla grande perché le sue energie si stanno trasformando naturalmente parlo di supporto naturale non parlo di cosa possono fare le singole persone le singole persone possono sfidare tutto questo ed andare avanti è diverso ma questo è il modo in cui si muove naturalmente se li manchi entrambi quando arrivi ai 60 vedi c'è speranza quando raggiungi i 60 in molti modi la tua struttura fondamentale all'interno del sistema cambia non sei più di tanto un uomo o una donna a meno che tu non lo sia nella tua testa se lo sei troppo nella tua testa sarà così altrimenti nel corpo non sei più di tanto un uomo né una donna questo ti dà una nuova possibilità tantissime persone fanno un salto in avanti in questo momento ma a quel punto molte persone sono malate hanno vari problemi e portano cesti di karma sulla testa per questo motivo a 60 anni la loro schiena può essere incurvata e sono sconfitti e fanno visita solo a spazi medici non a spazi sacri vanno da medici psichiatri e cose del genere se sei andato lì perderai anche quell'autobus ma 60 anni è una possibilità tremenda ecco perché in questa cultura all'età di 60 anni ci sono vari rituali da fare se sei una persona sposata quando compi 60 anni ti sposi di nuovo affinché diventi una nuova possibilità che non è una trappola non è un vincolo diventa una possibilità questa è l'idea quando le persone arrivano ai 60 si sposano di nuovo con la stessa persona devi specificarlo oggi oggi devi specificarlo altrimenti era sempre inteso in questo modo quindi ti sposi di nuovo con la stessa persona perché quando ti sei sposato a 20 o 25 anni o a qualunque età il corpo era dominante a 60 anni la tua consapevolezza potrebbe essere dominante e ci sono nuove possibilità quindi le persone sposate attraversano questo tipo di cose altre attraversano altri tipi di rituali e molte persone iniziano la loro sadhana yogica a solo 60 anni ma per tutto questo devi almeno mantenerti in una forma ragionevole se stai cercando di imitare la madre terra o ti ammali in vari modi allora quella possibilità non sarà disponibile quindi se sei sotto i 33 meglio centrare i 33 prima dei 33 hai energizzato te stesso hai organizzato la tua geometria in modo tale che non sei mai l'impedimento nella tua vita non sei tu il problema quest'unica cosa la devi fare ci sono migliaia di problemi nel mondo ma tu non sei il problema fai questo poi non ti preoccupi di questi tempi hai 33, 34, 35 anni puoi accenderti in qualsiasi momento scusa devo dire tutti i numeri? no puoi accenderti in qualsiasi momento ma come preparazione fino a 33 32 anni e 7 mesi per essere ragionevolmente precisi se hai fatto una preparazione sufficiente per riorganizzare la tua geometria i tuoi processi energetici il tuo pensiero le tue emozioni se sistemi queste cose allora la vita si aprirà come un'esplosione stiamo cercando di fare questo con i nostri bambini samskriti tutti si chiedono cosa faranno cosa faranno dove troveranno lavoro come andranno da McKinsey come andranno da qualche altra parte non andranno in questi posti ma andranno in posti migliori perché per come stanno organizzando le loro energie come stanno organizzando la loro geometria siccome dobbiamo lasciarli andare quando raggiunti i 18-20 anni hanno completato questo se non appena tornano a casa i genitori non li incasinano spero che non lo faranno perché hanno avuto la saggezza ed il coraggio di mettere i loro figli nel samskriti ma si preoccupano troppo ora hai 20 anni e non hai un diploma cosa farai? come ho detto recentemente è solo ora negli ultimi 60-70 anni che devi appiccicarti un diploma in faccia è andare e quello stupido certificato ti apre delle porte altrimenti mai nella storia dell'umanità un diploma ha aperto una porta sei solo tu la tua competenza che apre la porta nuovamente il mondo si sta muovendo in questa direzione molte imprese non chiedono più la tua qualifica chiedono solo cosa sai fare o hai fatto finora ed è lì che andrà se investi abbastanza tempo a organizzare il tuo sistema fino ai 33 anni di età quando arriva quel momento delle possibilità si aprono naturalmente e molte cose sono possibili non dovresti non dovresti neanche esaurirti troppo presto questo è importante in questo momento soprattutto negli Stati Uniti la gente viene a dirmi mio figlio ha 11 anni è già l'amministratore delegato di questa azienda ho detto cosa hai già buttato tuo figlio sul mercato sfortunatamente quando diventi adulto da qualche parte devi tenere almeno una mano sul mercato perché il mondo intero sta diventando economia ma ci hai buttato un bambino di 11 anni significa che se diventa amministratore delegato a 11 anni probabilmente hai iniziato a 6 un bambino di 6 anni l'hai buttato sul mercato è la cosa peggiore che puoi fare fai tutte queste assurdità per favore lascia stare i tuoi figli per un po' lascia che sviluppino il loro corpo il loro cervello il loro senso della percezione e la loro geometria devi capire questo è molto importante nel mondo fisico se qualcosa di significativo deve succedere l'equanimità geometrica e la fluidità geometrica dell'esistenza sono necessarie se questo non c'è puoi fare molte cose ma tutto ciò che farai è attrito e sofferenza se non c'è equanimità geometrica se guardi qualsiasi oggetto meccanico qualsiasi macchina vedrai che se non c'è equanimità geometrica tutto ciò che accadrà è attrito devi capire il mondo fisico che sia la galassia o il sistema solare o questo corpo queste sono tutte funzioni meccaniche tutto dipende dalla geometria quanto è fluida la geometria così tanto fluidamente funzionerà altrimenti genererà attrito quando c'è attrito più veloce vai più soffrirai questo accade le persone di successo sul pianeta che cercano di essere sulla corsia di sorpasso della vita soffrono molto di più di quelle che hanno fallito nella loro vita tuttavia se fallisci nella tua vita puoi camminare sulla spiaggia divertirti perché hai tempo questa è la cosa bella del fallimento hai tempo cos'è questo ragazzi non sapevo che foste così tanti il successo il problema con il successo è quando è successo non c'è tempo per niente quindi devi diventare super vigile se vuoi ancora assorbire la vita e conoscere il sapore della vita in ogni momento della tua vita altrimenti diventerai uno zombie andando in giro con qualcosa che ti ronza in testa che non è vita non c'è Grazie per la visione!